Buongiorno a tutti i telespettatori di Teleromagna, la giornata di mercoledì inizierà con cieli grigi ovunque a causa di nebbie e nuvi basse in pianura, mentre in Appennino la nuvolosità sarà anche qui diffusa con più vigini in aumento nel corso della giornata. Nel pomeriggio la situazione peggiorerà a causa dell'ingresso di area fredda da nord-est che provocherà la formazione di rovesci dapprima sull'Emilia orientale poi anche sulla Romagna specialmente tra sera e notte. La quota neve sarà inizialmente molto alta ma il calo termico farà sì che i fiocchi potrebbero scendere al di sotto dei millimetri soprattutto in Romagna nel corso della notte. Ventilazioni in aumento soprattutto nel pomeriggio sera sulla fascia costiera e sul crinale il mare sarà da calmo a poco mosso. Le temperature minime saranno generalmente comprese tra 5 e 9 gradi mentre i valori massimi saranno compresi tra 6 e 11 gradi. Per ora è tutto, buona giornata da Andrea Raggini.